Aveva dominato sotto il livello sia fisico che tecnico, poi l'anno scorso il Milan di orgoglio riuscì a ribaltare, si era presa la rivincita. Ricordiamo che non si era mai ripetuta una stessa finale nel giro di due anni, non Milan-Underlet, Milan-Underlet. Sì, tra l'altro sarebbe anche da dire che di quell'Underlet che vince...